Vedendo il film, il film mi è piaciuto, certamente ci sono cose che ti fanno sempre così arrabbiare, altrimenti mi sono anche commossa quando ho visto una foto dove lui esce e c'è mio padre sulle braccia di mio nonno, ma qualche domanda gliela avrei fatta anch'io. Tipo? Tipo le cose che magari mi ha raccontato mia nonna Rachele, sapere se erano vere, sapere lui che ne pensava realmente di Hitler, sapere sulla guerra se la voleva fare realmente, anche cose di famiglia. Che sensazione le fanno queste immagini invece, ripetiamo, quelli che avete visto non sono degli attori, è la gente normale che vedeva passare la macchina con Mussolini e reagiva a chi col pugno alzato ma in tanti col braccio teso. Vabbè, perché io lo so, perché praticamente è quello che spesso accade anche a me quando mi riconoscono, c'è chi magari mi stima, mi vuole bene, fa così e che invece mi va un bel pugno altri due e anche altre cose. Quindi io lo so, è chiaro, queste sono scene vere che il regista non ha tolto, cambiato, condizionato, è quello che accade quotidianamente, è la verità. Allora, Civati?